Ciao a tutti amicissimi di Alessandro Tech World e benvenuti in questo nuovo video Oggi abbiamo la video recensione di un range extender marchiato ASUS con roaming assist Tasto on off di spegnimento del prodotto, due antenne orientabili, chiaramente esterne come si può vedere dall'immagine Un prodotto N300, quindi un range extender molto basilare, in realtà ce ne sono anche da N150 o addirittura in classe G quelli proprio più vecchiotti Ma devo dire un prodotto interessante, 3 anni di garanzia, non vi resta che vedere questo mio video Vi invito a condividerlo con più persone potete, mettete un like in questo video e se potete anche negli altri Sigla! Pieni amici del Alessandro Tech World, eccolo qua, l'RPN12, un range extender davvero interessante Andiamo a vedere un attimino il packaging, logo 3 anni di garanzia, ASUS Qui sulla sinistra abbiamo un schema per vedere come configurarlo con il tasto DVPS Qui sotto le varie specifiche, vedete che è un N300 Nella parte sul retro abbiamo la categoria del range extender, vedete che si categorizza sulla parte N300 Poi abbiamo gli N600 e quelli con tecnologia AC Questa è una breve immagine che vi spiega come funziona il range extender Per chi non lo sapesse il range extender cosa fa? Riceve il segnale wireless dal vostro modem router, router oppure un access point Lo riceve quindi mezzo wireless per poi poterlo ritrasmettere sempre in wireless La porta Ethernet sotto serve per collegare per esempio un televisore nel caso in cui voi lo mettiate vicino a una televisione, una Playstation e quant'altro Queste sono delle varie scrittine ASUS eccetera Ma andiamo ad aprirlo perché questo è il range extender Andiamo a vedere un attimino la confezione di vendita Questa è la quick start guide, veramente in tantissime lingue Ma a noi non ci interessa che sia in 2000 lingue L'importante è che abbia la lingua italiana e l'italiano vi assicuro che ce l'ha Perché mentre giravo ho visto l'italiano Andiamo un attimo a vedere Eccola qua la lingua italiana Contenuto della confezione Poi abbiamo la configurazione del range extender Vi spiega come configurarlo anche vedete qui con il tasto di WPS Ma dopo questo ve lo farò vedere io in un attimo Tanto ci vuole veramente due secondi Abbiamo anche la quick start guide Che è la classica guida di quelle che si aprono come una mappa del tesoro Vedete con tutte le varie configurazioni e quant'altro Anche in altre lingue la VIP warranty in TIS e avanti tutta Mettiamo un attimo da parte la scatola e andiamo a vedere il range extender Allora il range extender ha una serigrafia Intanto togliamo la protezione perché non l'avevo tolta per paura di sporcarlo Ma devo farvi vedere questa serigrafia Mettiamo un attimo in fuoco manuale Vediamo se riesce a darvi l'idea Vedete che è una serigrafia in rilievo Che è davvero molto bella perché il range extender deve anche essere diciamo Abbastanza carino se messo in posizioni dove qualcuno lo può vedere Come dicevo le antenne sono orientabili Se viene posizionato così a muro avanti non ci vanno Vanno solo quindi è un raggio di 180 gradi in bidirezionale No perché più di così non scende Però potete fare poi così eventualmente se volete orientarla verso il basso Quindi antenne se movibili Chiaramente anche l'altra La spina è chiaramente italiana Qua dietro abbiamo delle specifiche Non vi preoccupate se non vedete la password di default Allora quando collegate il range extender Perché nel momento in cui voi lo andate a collegare Lui crea una rete senza password Quindi poi se volete collegarlo con il metodo 2 Quindi collegandovi al prodotto ed accedere alla pagina di configurazione Non vi necessita guardare sotto la password Loghetto Asus in serigrafia E i tre indicatori Power, rete e wireless Andiamo a vedere sulla parte laterale Di qua è pulito soltanto degli spiragli per farlo areare Mentre invece di qui abbiamo il forellino del reset Il tasto di spegnimento E il WPS sotto la porta 10100 Fast Ethernet Andiamo a vederla un attimino Eccola qui La Fast Ethernet 10100 E anche su qua sotto Delle griglie per farlo areare Cosa che c'è tra l'altro anche sopra Ma andiamo a vedere qui un attimino Ci soffermiamo giusto qualche minuto Per spiegarvi le funzioni di questi tre tastini Il reset Si tiene premuto con un tastino E' abbastanza duro Quindi se pigiate per esempio con uno stuzzicadenti Non abbiate paura a premere forte Perché se no non si reseta Rimarrete lì come degli stupidotti Ad aspettare e in realtà poi non si reseta il prodotto Quindi premete con particolare dovizia Perché se no il prodotto non si reseta Questo invece è il tastino di on off Quando lo collegherete a muro Potete spegnerlo e riaccenderlo In maniera veramente veloce e comoda Senza dover staccare tutte le volte il range extender Dalla presa a muro Questo è il tasto di WPS Per configurarlo come funziona Basta che voi lo collegate a circa un 5-6 metri Dove lo posizionate Diciamo che la rete wireless Del vostro modem che dovete stendere Deve necessariamente arrivare Quindi lui deve essere diciamo A cavallo Tra la rete che volete stendere E il range extender Infatti nella confezione Vi fa vedere che il range extender Vedete che va posizionato proprio all'estremità Della coverage del vostro modem router Questo perché la rete Guarda si viene estesa ricevendola Quindi lui riceve la rete e la riestende Una volta collegato Attendete circa un minutino che si avvia Successivamente cosa dovete andare a fare Dovete tenere premuto il tasto di WPS Fin quando questa luce Non inizia a lampeggiare Non di verde ma deve lampeggiare di rosso Quando preme... scusate Prima dovete premere sul vostro modem router Il tasto di WPS E successivamente Quando siete sicuri che dall'altra parte Il WPS è in ascolto Dovete premere Tenere premuto per due secondini Il tasto WPS sul range extender Inizierà a lampeggiare la luce di rosso E quando tornerà a lampeggiare di verde Vuol dire che il prodotto è configurato Allora andiamo a vedere un attimino Le conclusioni di questo prodotto Io l'ho testato per circa un tre settimane abbondanti Devo dire che non ho mai avuto problemi Lui estende la rete Mettendo la dicitura RPT alla fine Quindi non vi crea una rete univoca Vi crea due reti Però poi sui device Voi potrete salvarle tutte e due E quindi eviterete che sostanzialmente Ci sono problemi a livello di roaming e quant'altro Scusate non vi ne vengono i termini Insomma non è come TP-Link Che copia il nome della rete Quindi voi avrete un'unica grande rete Qui avrete la rete Pippo Che si chiamerà sempre Pippo E la rete del range extender Che si chiamerà Pippo RPT Che sta a significare la rete estesa Salvatele tutte e due sui vostri device E il gioco è fatto Come coverage non ci sono problemi Io ho una casa di circa 200 metri E con il modem router Diciamo che in alcune zone remote Faccio un po' di fatica Con questo range extender Ho praticamente risolto tutti i problemi Quindi un prodotto che funziona bene E niente Per questa recensione è tutto Vi ringrazio Vi invito a mettere un mi piace al video E al prossimo video Ciao dalle Sound Tech World Ciao dalle Grazie a tutti.